Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme dei dolcetti velocissimi, facilissimi e davvero fantastici. Sto parlando delle sfogliatelle alle pesche. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Per realizzare le nostre sfogliatelle abbiamo bisogno di pasta sfoglia, un pochino di confettura di pesche e pesche. Niente di più. Iniziamo ad affettare le pesche. Utilizziamo anche la boccia, quindi realizziamo delle fette di questo spessore. Questa è la mia pasta sfoglia. Quella che abbiamo preparato insieme. Chi di voi vorrà prepararla, come d'abitudine, troverà il link in info box sotto il video. Come vedete la pasta sfoglia che io preparo ha uno spessore decisamente più alto della pasta sfoglia acquistata. Se vorrete potete utilizzare la pasta sfoglia acquistata, ma come vi consiglio di solito prendete due fogli rettangolari e sovrapponeteli. Avrete sicuramente un risultato migliore. Ora dobbiamo dividere la pasta sfoglia semplicemente con un tagliapasta. Ora distanziamo i pezzi di pasta sfoglia l'uno dall'altro. Con una forchettina andiamo a fare dei fori così. A questo punto stendiamo. solo al centro un velo di confettura alle pesche. e a questo punto dobbiamo semplicemente disporre delle fettine di pesca su ogni sfogliatina. niente di più semplice. Così. 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 Così cosa. Così. 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 ora prima di informare andiamo a spolverare con un pochino di zucchero di canna lo mettiamo sia sulle pesche che sulla pasta sfoglia questo passaggio è facoltativo quindi chi di voi vorrà evitare lo zucchero potrà non metterlo e ora cuociamo le sfogliatelle in forno ventilato preriscaldato a 175 gradi per 20-25 minuti fino a doratura eccole qui le sfogliatelle alle pesche appena sfornate ora bisogna lasciarle intiepidire leggermente e poi possiamo preparare un bel vassoio le sfogliatelle sono su un vassoio e io mi accingo a portarle in tavola sono dei dolcetti da preparare in maniera davvero semplice sono realizzabili molto velocemente ma sono di una bontà incredibile bene anche per oggi è tutto io spero che le mie sfogliatelle alle pesche siano state di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video un grande abbraccio a tutti voi da Rita a tutti voi da